Allora, siamo con Rita Catalano per una nuova edizione del Palio del Gusto. Allora, in questa edizione 2013 iniziamo a vedere quali sono stati i problemi, perché sicuramente ce ne saranno stati tanti e poi vediamo le cose positive. Troppi problemi, grazie a Dio ce li abbiamo fatti anche quest'anno. Ringrazio il mio team, ringrazio tutti i commercianti che hanno aderito, sia con l'esposizione che con gli sponsor, ringrazio chi ci ha creduto come noi nel realizzare questo secondo Palio del Gusto. Rita, vediamo tantissime persone. Ringrazio soprattutto la Prologo. Perfetto, e ringraziamo anche l'Associazione dei Commercianti. È la prima, l'Associazione dei Commercianti Artigiani Lauria, Alca. Allora Rita, dicevamo dei problemi, perché sicuramente per mettere in piedi una situazione di questo tipo, tra l'altro vediamo tante persone, persone in divisa, persone quindi che curano anche un po' gli aspetti esteriore, significa che c'è una preparazione non indifferente. Certo, la preparazione del Palio dura un anno. Ciò vuol dire che noi dal 23 luglio 2012 abbiamo lavorato per la realizzazione del secondo Palio del Gusto, 21 luglio 2013. Allora tutto quello che noi vediamo è frutto di collaborazione, di preparazione e di tempo. È costanza nel lavoro. Rita, incrociamo le dita per questa edizione, però guardiamo quella dell'anno precedente. Anche in quell'occasione noi possiamo testimoniare che eri un po' preoccupata, un po', però poi alla fine è andata bene. Ascolta, l'anno scorso, senza scendere magari nei particolari proprio precisi, però descriviamo le quantità legate all'evento dell'anno scorso. Più o meno, quanti piatti avete fatto, quante persone più o meno avete calcolato? Allora abbiamo fatto un calcolo approssimativo di 3.000 partecipanti per 1.500 piatti di fusilli. Noi non ce l'aspettavamo ovviamente, per noi è stata una sorpresa e contiamo di avere questa gradita sorpresa anche quest'anno. Quindi allora noi dobbiamo fare 3.000 e 1.500 e 1.000. Certo. Ascolta, c'è la parte gastronomica che è evidente, e poi chiaramente la parte dell'intrattenimento. Ecco, quest'anno qual è stata l'impostazione per quanto riguarda la parte del divertimento? Allora, 15 artisti di strada alliederanno Corso Cairoli. Dopo c'è lo stand di Vinea che si è munito di DJ e lo stand della birra che si è munito di DJ. Dopodiché Piazza San Giacomo con i Tarantati. Sa a che ora lo spettacolo dei Tarantati? Dei Tarantati dalle 22.30 in poi. Quindi possiamo dire che siamo davvero proprio all'inizio della serata perché diciamo... Siamo proprio all'inizio, sì. Tu già hai... ecco, vediamo anche le suore, la superiore, quindi vuol dire che è davvero un evento che coinvolge... Sono ordinario, Mario. Poi voglio dire, davanti ad un bel piatto di pasta credo che... Fusilli, fusilli. Per tradizione penso che non dice di no nessuno. Ascolta, vediamo tanti cuochi, ecco, come siete riusciti a coinvolgere queste maestranze, insomma, questi artisti del gusto? L'associazione di Riferisci l'abbiamo contattata l'anno scorso grazie a Pietro De Nicolo che sta a Lauria e che è un componente dell'associazione italiana Cuochi Regionali Lucani. Poi siamo rimasti in rapporto, in amicizia e quest'anno sono tornati sulla continuità dello scorso palio. Rita, sicuramente vedremo, troveremo il modo di riascoltarti, anche se tu sei un po', diciamo, restia, però veramente te ringraziamo per la disponibilità. Non vorremmo perdere la presenza, è Pasquale che è un cameraman di straordinaria. Ci vediamo dopo. Perfetto, ci vediamo dopo. Vediamo se le suore riescono a dirci qualcosa. Sicuramente, adesso speriamo di non essere eccessivamente invadenti, però sappiamo che la Superiore è una persona notevole, è una persona di una grande disponibilità. Poi c'è un pilastro come Suor Teresa. Superiore, allora, giusto una parola per questa serata di festa. Per me è la prima volta che avete questa festa, perché l'anno scorso non c'ero. Superiore, lei viene da Napoli, vero? Dalla Campania. Ecco, i fusilli, insomma, questo tipo particolare di pasta di casa, è nota anche sicuramente dalle vostre parti o no? No, no, no. Ah, quindi... È una caratteristica di pasta. Però l'avete mangiata in questo periodo, è come vi sembra? È buona, è buona. E stasera provate a... Sì, come? Grazie, grazie, Sor Marianna. Abbiamo avuto anche il piacere di intervistare Sor Marianna. C'è Giovanni qui che ci vuole dire qualcosa. E' un giovane straordinario, di belle speranze, ma anche di una realtà, insomma, è un giovane anche in gamba, molto conosciuto. Grazie. Giovanni, queste iniziative sono importanti per l'Aurie? Importantissime, importantissime perché il paese si ravviva e noi siamo felici di questa... di vedere questo bel movimento, insomma. Giovanni, facciamo un'intervista chiaramente simpatica. Il tuo menu, diciamo, allora, nei giorni, in un giorno in cui tu sei particolarmente felice e soddisfatto, come metti in fila un po' le pietanze? Allora, primo piatto? Ma io incomincierei con... adesso sicuramente stasera parliamo di fusilli, ma io incomincierei con un bel piatto di pasta e fagioli, anche sfritto, possibilmente. Poi mettiamo però i fusilli, poi li mettiamo, l'assaggio? Io faccio il tifo, lo dico, per la squadra gialla, fusilli sfritti, quindi... Perfetto. Poi come secondo vediamo... Come secondo un bel arrosto di carne, misto. Per mantenersi leggeri, sai, insomma, dopo due prime. Un bel condorno di patatine, diciamo. Poi? E poi, vabbè, partiamo con formaggi affettati. Sembra per mantenersi molto leggeri. Vabbè, questa è una giornata tipica, diciamo. Formaggi che tipo? Più pecorino o più formaggi dolci? No, no, pecorino, pecorino perché diciamo che è buono per farsi anche un bel bicchiere di vino, quindi... Pane fresco o pane un po'... Casereccio, fresco. Casereccio, fresco e il pecorino possibilmente non troppo stagionato, dov'essere... Un pochettino fresco? Un pochettino fresco. Magari anche con una goccia di miele o no? Anche sì, sì. Anche, diciamo, non si butta via nulla. Ascolta, e poi in conclusione? In conclusione, frutta tipica della, diciamo, di stagione. E come bevanda, Coca-Cola o vino? Vino rosso, locale, possibilmente Casereccio nostro. Vino della casa? Vino della casa. Dolce, dolce? Dolce, un bel tiramisù ci starebbe bene. Ecco, tu hai visto, qui l'organizzazione davvero è da lodare perché ha messo in evidenza anche dei prodotti particolari. A livello di dolci, no, tu sai, no, che ne so, i biscottini, i pezzetti, le chiacchiere, i mostaccioli, qual è il tuo dolce lauriota che è l'anginette, diciamo, ecco, qual è il tuo dolce particolare? Che preferisci? L'anginette è quello che mi ha fatto proprio grande, mi ha cresciuto, però le chiacchiere vanno bene. Anche perché poi, voglio dire, dopo due primi la carne è come a mettere gli anginetti, insomma. Eh, lo so, lo so, andrebbe più per colazione, diciamo, andrebbe bene. Perfetto, Giovanni, grazie, grazie. Allora, la simpatia del cameraman non ci permette di essere seriosi, ma invece l'associazione Oissa meriterebbe tanta serietà perché è un sodalizio che in questi anni sta meritando davvero la prima pagina, insomma, nelle attività estive e non solo, sappiamo anche di un impegno che dura tutto l'anno. Siamo in compagnia dei massimi vertici, dei due pilastri o tra i due pilastri dell'associazione. Allora, dovremmo iniziare dal presidente, però siccome il vicepresidente è donna, iniziamo da Maria Lucia. Allora, Maria Lucia, questa iniziativa del Paglio diventa una sorta di prologo, diventa un po' un'anticipazione di quanto avverrà il 16 agosto che ormai è una data che è da mettere proprio con il quadratino rosso nel calendario di tutti i laureati e non solo perché come vediamo ogni anno arrivano un po' da tutte le parti del territorio. Sì, allora, ormai sono diversi anni che l'associazione Giovani Oissa si specializza nella notte bianca. Questo perché il nostro intento è sempre quello di collaborare con i giovani, con le associazioni di laurea e promuovere il nostro territorio. Il nostro intento è quello di far vivere questo paese in una notte e quindi inizierà dalle 5 il pomeriggio fino alle 5 la mattina e con spettacoli non solo per i giovani, bambini, adulti, occupandoci proprio di questo. Poi anche di far conoscere tutti i luoghi di laurea, quindi in ogni piazza noi collocheremo uno spettacolo e soprattutto vedere il corso vivo di stendisti. E questo è il nostro intento, che ogni anno cerchiamo di girare i vari territori per promuovere il paese e per trovare nuovi stendisti. Maria Lucia, c'è anche un'altra particolarità della vostra associazione che è quella legata un po' alle giovani generazioni e ai bambini. Siamo proprio qui, se Pasquale riesce a far vedere anche un po' piano piano un po' l'area qui davanti alla scuola elementare Brancato, vi sono dei gonfiabili dedicati ovviamente ai bambini, quindi c'è questa peculiarità che avete e che curate. Sì, un altro aspetto che si occupa dell'associazione è proprio di questo, i bambini. Infatti noi faremo un campo scuola, dei ragazzi all'arrembaggio, che anche questa è arrivata la terza edizione, quello di organizzare delle attività e anche ai bambini facciamo una cosa particolare, quella di fare delle escursioni per il paese perché è bello proprio che loro si divertono nel conoscere il paese. E poi la domenica pomeriggio, soprattutto le domeniche estive, il nostro intento è quello di sempre far vivere questa piazza e quindi abbiamo acquistato questi gonfiabili, sono proprio di proprietà dell'associazione per loro e questo è anche un modo per collaborare con le altre associazioni in maniera tale che quando ci sono delle attività a laurea, delle manifestazioni possono chiamarci feste, qualsiasi cosa e noi ci curiamo sempre di questo, abbiamo pagliacci, diverse cose dell'associazione. Maria Lucia, per concludere non ti vorrei mettere in difficoltà ma dammi un tuo parere, la notizia non del giorno ma della settimana o della quindicina è legata proprio ai festeggiamenti per San Giacomo, tra l'altro è un tema molto delicato perché si innesta in una serie di situazioni molto serie, molto importanti come sono quelle appunto della religione, della parrocchia. Qual è il tuo punto di vista? Il mio punto di vista è proprio un tasto dolente perché pensare che la nostra festa padronale forse quest'anno non ci sarà, beh, forse non so neanche di perché tutto questo. Spero solo che almeno la devozione per il nostro santo, almeno quel giorno ci sia da parte nostra e di tutta laurea e convidiamo l'anno prossimo e che le cose si mettano al loro posto. Maria Lucia, approfitto perché siete due giovani e poi siete molto impegnati. La domanda supplementare è questa, il dilemma di fondo è il seguente. Allora, ci sono dei fondi che in qualche misura vengono dati dalla comunità. Questi fondi devono essere utilizzati per un momento così ludico, per un momento di aggregazione come può essere una festa o un concerto musicale o questi soldi devono essere spesi magari per progetti sociali? Qual è la tua posizione? Chiaramente è una domanda difficilissima. Sarà che io la penso sempre che questo paese deve vivere, quindi che venga fatto qualcosa a livello sociale per tutti. E quindi una via di mezzo sarebbe auspicabile, un po' tener conto magari delle esigenze, magari delle difficoltà, magari delle famiglie. Sì, quello sicuramente perché stiamo vivendo purtroppo un periodo difficile, sappiamo quanti qui a Lauria forse neanche noi lo possiamo immaginare, quanti sentono questa crisi. Però è anche importante far conoscere questo paese che merita. Perfetto. Ringraziamo la vicepresidente di Oissa. Allora Nico, partiamo dall'ultima parte, dall'inizio. Forse l'ultima parte è complicata, non complicata, ma insomma, voglio dire, anche tu credo ti sarai appassionato a questa situazione un po' particolare. Insomma, proprio volendo estremizzare e sintetizzare la questione, fuochi d'artificio o non fuochi d'artificio? Se per fuochi d'artificio intendiamo un po' di spese che magari durano il tempo di una serata, di una giornata. Ecco, tu dove ti poni come anche sensibilità di ragazzo, di giovane? Io penso che se il paese non deve morire, si deve attivare in tutti i modi a 360 gradi. E per fare questo ci vogliono le manifestazioni. E queste manifestazioni, secondo me, devono venire soprattutto dai giovani, perché a Lauria i giovani stanno scappando. E questa è una cosa negativa. Ma ormai, alla luce di tutti, se ne sono accorti tutti, che i giovani stanno soffrendo in questo paese. Io spero che con la crisi, in un futuro migliore, riusciremo a fare qualcosa di più per questo paese. Quindi, Nico, tu dici nella buona sostanza che anche spendere qualche soldo, che può apparire pure speso così, un po' in maniera fatua, però può essere un momento per far stare, insomma, le persone nel paese. No, io dico che i soldi vanno spesi, però bisogna vedere come vanno spesi. Per esempio, come hai detto tu, il fuoco d'artificio. Se è una cosa che non si può fare, è meglio far venire un bagliaccio, un cabarettista, che magari ti riempie la serata e magari il fuoco d'artificio un quarto d'ora, che siamo sullo stesso budget di soldi. Secondo me, valutare bene quello che si fa. Ma noi ci siamo dentro e quindi sappiamo le situazioni, sia economiche che di tutto logistica. Quindi possiamo esprimerci in questo caso. Ok, quindi tu dici le spese vanno fatte, magari però facendo una scelta tra quelle spese che poi hanno anche un valore. È un periodo che stiamo affrontando. Dico, però adesso parliamo di Oissa, dicevamo con Maria Lucia una vetrina, un po' come nel ciclismo, che un ciclista tira l'altro, il palio del gusto tira un po' la volata in qualche misura alla vostra iniziativa. Quindi una bella cosa perché significa un po' collaborare. Vogliamo parlare di quanto avverrà magari stasera, e già vediamo delle cose, e quanto avverrà poi il 16 di agosto in particolare. Allora noi, come ha detto prima Lucia, noi cerchiamo sempre di collaborare con tutti. Noi diamo sempre la nostra disponibilità, ci mettiamo sempre, siamo sempre i primi. Come ci chiamano, partiamo, giustamente. Come 118 quasi. Diciamo di sì, con le nostre possibilità noi possiamo arrivare, siamo sempre a disposizione. Poi abbiamo fatto, da tre anni che abbiamo fatto questo acquisto con i confiabili, e ogni tanto anche per riavvivare un po' la piazza del popolo, alcune volte anche a superiore, pure perché non c'è niente, perché non si organizza niente, mettiamo questi confiabili, pure per mantenere un po' la piazza in allegria. E anche stasera gli amici del Palio del Gusto ci hanno invitati, come altre associazioni, da qui fino alla Notte Bianca, ci hanno invitati. E noi abbiamo sempre risposto in maniera positiva. Nico, la vita interna di Oissa, in questi anni, adesso potete anche statisticamente evidenziare il percorso che state facendo, ecco, nel corso di questi anni vi sono più associati, meno associati, le persone sono stabili, c'è il fenomeno che diceva anche Maria Lucia, che poi le persone se ne vanno, e quindi chiaramente diminuiscono anche un po' le persone che operativamente danno una mano all'associazione. Sì, questo è vero, però noi nell'associazione Oissa, come soci attivi, stiamo mantenendo sempre le stesse presenze. Invece anche in quelle che danno solo un contributo, che magari non hanno il tempo sia materiale che poi, diciamo, anche c'è qualcuno che non è portato per fare le feste, magari dal contributo economico. E anche a noi ci fa piacere. Eppure diciamo che ogni anno si avvicinano di più le persone, perché stanno vedendo che l'associazione, che sta crescendo, come ci comportiamo. Ormai ne siamo a faccia con la gente, non possiamo sbagliare, perché come sai tu che questo paese, come sbagli poco, ti fanno, diciamo, la festa. Però, diciamo, comunque, insomma, passi, passi delle giornate con grande rammarico. Ascolta, per concludere, noi ci siamo visti qualche settimana fa in un'altra bella iniziativa, fatta a Castelluccio Superiore, dove un po', diciamo la verità, Nico, un po' tutto organizzato in maniera perfetta dalle parrocchie, dai parroci, in particolare da Don Cristian. Poi un piccolo difetto legato, diciamo, alla scelta di un arbitro che ha un po', in effetti, rovinato un po' tutta l'iniziativa. Però, andando oltre questo arbitro, che tra l'altro ha avuto l'ardire e l'ardore di arbitrare tutte le partite, quindi meriterebbe davvero una radiazione nel sistema solare addirittura. Un post moggiopoli era, quasi. È stata una bella cosa. È stata soprattutto una bella iniziativa, che spero, come ho detto anche l'altra volta, che ce ne saranno tante, perché fa stare insieme i bambini, i ragazzi e i giovani, perché prendeva diverse età di ragazzi. Poi, nella persona di Pasquale Nesisti, che ha fatto l'albitro, le hanno fatto tutti i complimenti. Io non mi posso esprimere perché c'è l'amicizia, è anche un socio dell'associazione, quindi sono super partner. Quindi, però, là le hanno fatto tutti i complimenti, si è comportato veramente... A noi dell'Auria, comunque, non ci ha fatto nessun favoritismo, quindi questo già vuol dire tutto. Nico, faccio un'anticipazione della squadra di calcio. Tu, insomma, sei in molte minestre. Vediamo la minestra, vediamo la pietanza del calcio, diciamo, ufficiale, regionale. Com'è la situazione? No, c'erano delle voci che dicevano di una cosa che non si poteva affrontare, però, come anche qui c'è il problema della crisi, e quindi le cose vanno fatte piano piano. Ma quest'anno si sta affrontando, si vuole fare, affrontare un progetto serio, con persone serie, e penso che anche quest'anno si farà il campionato per far divertire, perché il pallone è anche vita sociale, quindi se venga anche il pallone in un paese, siamo rovinati. Non danniamo i giovani da una vita quotidiana per portarli magari a drogarsi, a bere. E io spingo soprattutto le autorità, l'amministrazione, che stia vicino alle associazioni, sia sportive che tutti i tipi di associazioni. Ci sarà sempre il mister Oliva come allenatore? Questo non so niente ancora. Però dove resti? No, perché io, come ho detto l'altra volta, il mister Oliva è una persona splendida, però tu come sai nel calcio tutto è possibile, pure io portassi pure che... Che rimarrai a Lauria o no? Non sei come a Cavani, che ti vediamo a Paris Saint Germain. No, 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 non è il mio caso. Grazie, grazie a Maria Lucia, davvero due ragazzi splendidi che fanno di una passione anche un'attività sociale, e quindi quando si fondano questi due elementi, chiaramente è il massimo per una realtà come quella di Lauria e come sono le realtà della nostra Basilicata. Bisogna dire che io l'ho sempre detto, dove sono andato e andato, mi hanno fatto interviste, penso anche a Lucia, noi comunque abbiamo avuto dei maestri nel passato, e questo bisogna sempre dirlo perché non bisogna nascondere le persone, perché noi non siamo nati dal nulla così. Comunque io devo ringraziare Suor Terese, penso anche a Lucia, che comunque ci ha portato a organizzare feste, e ci ha stimolato anche Mario Lamboglia, che con il premio Mediterraneo ne ho fatto parte per 4-5 anni, quindi ci ha insegnato a fare una festa e dei grandi eventi, quindi soprattutto ringrazio ancora una volta l'Eco e Mario Lamboglia. Perfetto, tu non devi ringraziare nessuno, siamo noi che ringraziamo te, la città deve ringraziare te, deve ringraziare Maria Lucia e tutte quelle persone, Antonio, insomma tutte quelle persone, ecco, la piazza si è animata e è bastata poco, quindi se ognuno facesse e parlasse un attimo di me e facesse qualcosa di in più sarebbe eccezionale, staremmo forse in un altro mondo. Se uno vuole parlare, mettiamo un balco e facciamo un cabaret, almeno facciamo una serata. A Londra c'è il speaker conners, no? A Die The Park, dove uno si è, va lì e parla. E parla. Dovremmo fare qualcosa del genere. Ci possiamo pensare. Se non in queste settimane sarebbe assolutamente affollato. Un ponte di crude. Perfetto, grazie e buona serata, a dopo, grazie, grazie. Io mi chiamo Felice, il gioco che mi piace di più è Attacco Fulmine. che si gioca, che ci deve essere uno che acchiappa e gli altri che devono correre. Tipo, una persona acchiappa un bambino e il bambino deve stare fermo. Poi se un altro della sua squadra lo viene a toccare può ricominciare a correre. E invece se quello che acchiappa comincia ad acchiappare tutti quanti i giocatori ha vinto lui e ha perso la squadra. Ti piace il calcio Felice? Sì. Poi è la squadra che ti piace di più? Inter. Ma per il laurea Tifi o solo l'Inter? Solo l'Inter. Non in laurea. E dai. No, solo l'Inter. E ascolta, il giocatore che ti piace di più? Milito. Ok, passa il microfono. Come ti chiami? Mario. Mario, hai un nome importante, hai un nome molto importante. Ascolta, qual è il gioco che ti piace di più? Ehm... Hai 10 secondi. Hai 10 secondi. Spider-Man. Spider-Man? Come si gioca a Spider-Man? Cioè ti devi mettere il costume da Spider-Man? Sì. O no? Sì. O voli, vai nel terrazzo di casa e ti butti sull'altro terrazzo, no? No. No, ti devi volare. Non riesci a volare ancora, però ci potrai riuscire. Quando ti mettiamo nella terra, vogliamo. Ascolta, ti piacciono i confiabili, ti piace questo gioco. Quali di questi confiabili ti piace di più? Calcio. Quello del calcio lì. Ascolta, qual è la tua squadra del cuore? Milan. E il giocatore? Prince of Water. Ok. Allora, passiamo a te. Tu ti chiami? Francesco, Francesco. Francesco. Allora, sei in sciopero, Francesco? Per palla. Dai. Dai, se non ti faccio, se non ti faccio, se non ti faccio, se non ti faccio. Se non lo dici, ti chiamo Patel. Io mi chiamo Oscar e il mio gioco preferito è il calcio. Ah, perfetto. Quante ore al giorno giochi a calcio? Eh, non lo so, due, due o una. Ma giochi davanti a casa o al campo sportivo? No, davanti a casa, proprio, con i miei amici. Quanti ragazzi riuscite a stare insieme quando giocavo? Non lo so, quattro, così. Ascolta, ma tu in che ruolo giochi? Mmm, meglio. Dipende, insomma, dipende dalla giornata. Puoi essere portiere, attaccante, difensore? Eh, portiere, io sempre portiere. Ah, sei sempre portiere, ok. Ma tu un giorno vorresti giocare nel laurea? Non lo so. Perché mai? Ma come si stacca? Ascolta, una serata come questa ti piace? Sì. Vorresti che tutte le sere ce ne fosse una? Eh, ah, 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 ah. Francesca, vediamo se riusciamo a far... No, no, la voglio. Sei in silenzio stampa, non vuoi parlare. Sei in sciopero. Dici, dici come ti chiami. Ok, ok, grazie ragazzi. Allora, Raffaele Spagnolo, un laureota un po' particolare, nel senso più bello del termine, perché è un appassionato laureota, è un sanguigno laureota, sempre attento un po' a tutte le iniziative. Partiamo dall'iniziativa di questa sera, che ormai è diventata second tour da qualche anno, insomma, pur essendo un'iniziativa, insomma, abbastanza recente, però già è riuscita ad essere un punto di riferimento nel calendario annuale delle iniziative. Ecco, tu Raffaele, come la vedi questa manifestazione? Tra l'altro tu sei una persona che gira anche molto e quindi ha la possibilità pure di fare dei raffronti. Ecco, come vedi questo evento vero e proprio? Hai detto bene, io sono un laureoto accanito, soprattutto il fatto che io non vivo a laurea, nel senso che il lavoro mi porta spesso fuori dal mio paese. Ogni occasione è buona per rientrare e per sentirmi sempre più vicino a questa realtà, che poi è il mio paese. Questa manifestazione qua è il secondo anno che viene effettuata qui a laurea, perlomeno nel rione inferiore, e devo dire la verità che è una di quelle manifestazioni che pian piano sta prendendo piedi. Io mi auguro che con il passare del tempo questa manifestazione vada sempre più avanti e non si perda, come spesso accade purtroppo, nella nostra realtà. Rispetto alle altre realtà, devo dire la verità che si avvicina moltissimo, perché quando vai a riscoprire dei gusti e delle particolarità locali sono cose che fanno sempre piacere. Poi chiaramente è da apprezzare comunque ogni iniziativa, io parto da questo concetto qua. Ogni iniziativa è buona e chiaramente bisogna cogliere gli aspetti positivi e anche quelli negativi, perché quando la critica è positiva io parto dal concetto che è comunque sempre qualcosa da valutare e da tenere presente se poi questi consigli vengono accettati e pesati. Raffaele, tu sei una camicia rossa, per chi non è di laurea una camicia rossa significa che si fa parte del comitato di San Giacomo. Lo dicevamo anche con i ragazzi lì in fondo, questa non è la notizia del giorno ma rischia di essere la notizia dell'anno. È la bomba dell'anno sicuramente. Ecco, un tuo parere, facendo una premessa, tu sei una persona molto sensibile, e chiaramente sai bene come sono spinosi questi argomenti quando c'è la fede, c'è la tradizione secolare alla base di una qualsiasi attività. Sì, io sono un componente del comitato San Giacomo, quest'anno ricorre il ventesimo anno che è nato questo comitato qua, anche se io non sono proprio 20 anni, saranno 15-16 anni che faccio parte di questo comitato, orgogliosamente. E negli anni si è potuto vedere la festa di San Giacomo a che livello era arrivato. Devo dire la verità stamattina parlando poi con gli altri componenti di questo comitato che probabilmente quest'anno mi sono stancato, più quest'anno che la festa non la facciamo, che è gli anni che l'abbiamo fatta, perché in questi giorni veramente questa festa che non si farà probabilmente sarà una di quelle cose che non sono state fatte ma che se ne parlerà tantissimo e lascerà il suo segno. E io in tutto questo vedo anche un po' di positività nel fatto che non l'abbiamo fatta, perché noi non è che ci siamo svegliati come comitato, la mattina abbiamo deciso di non farla, si sono dette tantissime cose, si sono lette tantissime cose, ognuno di noi l'ha interpretata nel proprio modo e ha accolto quello che gli è sembrato, come dire, a proprio modo la spiegazione più plausibile. Quello che ti posso dire è che il 24 ci sarà qui il Vescovo con il quale avremo un incontro nel pomeriggio dove saranno chiariti tanti e tanti aspetti. una cosa che posso dire chiaramente perché ormai è sulla bocca di tutti, chiaramente noi ci siamo comportati seguendo delle regole che la curia ci ha dato. Queste motivazioni noi le abbiamo messe in atto e il risultato della festa è questo. poi chiaramente questo non è il momento di aizzare ancora di più polemiche, ci saranno tempi e luoghi per chiarire queste cose, ma in tutto questo noi del comitato vogliamo cogliere anche l'aspetto positivo nel fatto che la festa non si sia fatta. Ti posso garantire che chiaramente per noi è una grossa amarezza quella di vedere il nostro paese purtroppo non festeggiare San Giacomo. Raffaele, fatti fare una domanda, chiaramente ti estremizzo il ragionamento, però forse così chi ci ascolta in questo momento riesce a capire la tua opinione. I fuochi d'artificio, che poi chiaramente non sono la cosa più importante in una iniziativa, soprattutto come quella del comitato San Giacomo che era piena di tantissime cose, però volendo mettere i fuochi d'artificio al centro, dal tuo punto di vista, chiaramente ripeto, usandolo come esempio, i fuochi d'artificio devono essere fatti o non devono essere fatti e quindi più in generale delle manifestazioni, dei momenti di una organizzazione che chiaramente sono dei momenti che magari durano anche dieci minuti, quindici minuti, mezz'ora, un'ora, due ore, un concerto, in un momento anche difficile come questo, devono essere fatti secondo te o non devono essere fatti? Mi pare che qui poi è il nocciolo della questione. Sicuramente il nocciolo della questione non sono certamente i fuochi, i fuochi sono uno dei motivi che sono stati colti in questa festa perché non è soltanto il fuoco d'artificio ma sono sicuramente anche le illuminazioni perché la cura ha avuto da ridire anche sul fatto che noi facessimo le illuminazioni, il fuoco perché bruciate questi soldi e tante altre cose. È chiaro che io ho 53 anni fra qualche giorno e mi ricordo che ai tempi di Guido Caino, che tu conosci bene, che è stata un'istituzione per la festa di San Giacomo, i fuochi erano aperti, erano la chiusura e la festa veniva aperta la mattina con i fuochi d'artificio e quindi secondo me i fuochi d'artificio sono la chiusura e il momento di chiusura di una festività. È un momento simbolico, chiaramente i costi. Certo, anche perché sono una di quelle cose che la gente li vuole, li aspetta e noi nel nostro piccolo abbiamo sempre cercato di chiudere la festa con ottimi risultati penso anche. Raffaelli, in conclusione, è ipotizzabile allora, 2014, il comitato San Giacomo che rimane unito, che si ripropone per l'iniziativa del 2014, qualche limatura probabilmente su alcune cose però nel 2014 la festa civile si tornerà a fare, vedi questa previsione o sei pessimista sul futuro. No, io ti posso garantire che questo comitato esce ancora più forte e sicuramente te lo posso mettere per iscritto che questo comitato non abbandonerà, è in ottima sintonia col parroco Don Franco per quanto riguarda la festa di San Giacomo perché abbiamo lavorato sempre in sintonia e sicuramente l'anno prossimo questo comitato sarà ancora più forte. Allora, un'organizzazione di questo tipo ha bisogno di tanti ringraziamenti, è vero? Certo Mario, innanzitutto ringrazio tutta l'Alca e tutto il mio staff, poi il comune di Lauria nella persona del sindaco, l'assessore alla cultura reale, la proloco, la regione, i vigili urbani e la protezione civile.